La Roccaverano DOP ha una particolarità unica rispetto agli altri prodotti ed è il fatto che c'è un obbligo di portare gli animali al pascolo. Questo rende il prodotto sicuramente più artigianale, c'è una garanzia per il cliente che le capre sono trattate bene e che possono vedere la luce del sole, possono andare fuori e scegliere quello che vogliono mangiare in giro per i pascoli, in giro per i boschi. Poi la capra ovviamente non è come la pecora, la capra va a mangiare anche il fogliame, le cortecce, gli arbusti piuttosto che le more, va a cercare un po' dappertutto quello che trova nei pascoli. Tutta la zona di Roccaverano e dintorni ha dei pascoli unici perché si trova ad un'altitudine anche fino a 800 metri, quindi siamo ben oltre la pianura, i nostri pascoli più bassi si trovano a 400, 300, 400 metri sul livello del mare, quindi anche lì la capra ha la possibilità di mangiare delle erbe che magari in pianura non ci sono neanche. Il fatto di portarlo al pascolo oltretutto aiuta parecchio al benessere del gruppo, quindi noi lo notiamo parecchio quando è finito l'inverno e le inizi a portare al pascolo, verso la fine dell'inverno c'è parecchia tensione nella stalla, si picchiano parecchio, litigano diciamo, mentre quando inizi nuovo a portare al pascolo le vedi proprio che sono più rilassate, più tranquille, ecco. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.